Nell'immaginario collettivo il lavoro del giornalista, probabilmente, è un lavoro semplice, in fin dei conti, che fa, raccoglie interviste e scrive. Non è proprio così. Nel caso della televisione, ad esempio, ciò che va in video è solo un riassunto di un paio di minuti di quanto accaduto, ma dietro c'è un lavoro molto più intenso, che prevede spesso ore di attesa, comprensione delle intenzioni dell'intervistato, smistamento di alcune affermazioni non proponibili al pubblico, dando al contempo piena espressione di opinione. Capita a volte, per fortuna di rado, che i giornalisti vengano letteralmente maltrattati. E quanto accaduto ieri ad una collega terramana, Ania Cantagalli, che stava realizzando un servizio per il sito web City Rumors, una conferenza stampa che vedeva, a pochi metri, alcuni oppositori del protagonista, in pubblica piazza. Non mi sembra, insomma, stai contestando, sono libera del brevetto. Lei, come dovrebbe fare ogni giornalista, si è avvicinata per chiedere il motivo della contestazione. Risultato? Aggredita verbalmente, ma soprattutto gli hanno fatto cadere a terra il telefono cellulare, con cui avrebbe voluto realizzare un servizio. Di qui, come umanamente giusto, sono partite le note di solidarietà. Innanzitutto quella dell'Ordine dei giornalisti, della CISL e poi di tanti altri. L'Ordine dei giornalisti d'Abruzzo, si legge in una nota, esprime solidarietà alla collega Ania Cantagalli, che, mentre realizzava un servizio per City Rumors, si è vista un personaggio munito di un megafono che le ha strappato di mano il telefono cellulare gettandolo a terra. Si tratta di un brutto episodio di intolleranza e di violenza nei confronti della giornalista, ma rappresenta anche un attacco al diritto all'informazione. Ormai non bastano più parole di condanna, si tratta invece di mettere in atto azioni concrete per proteggere i giornalisti e per garantire loro che possano continuare a svolgere il loro lavoro in sicurezza. E' auspicabile, conclude la nota dell'Ordine dei giornalisti, che le autorità accertino le identità degli aggressori per metterli in condizione di rispondere dinanzi alle autorità competenti.